Direi inclusivi, democratici e radicali. Antropologico, nel senso che parte e trae ispirazione dallo studio dell'uomo. Racconto e valorizzazione dell'intimità della zona notte come luogo di benessere, raccoglimento e cura dell'uomo. La nostra scelta è ricaduta su due collezioni, in qualche modo opposte che ci piaceva far dialogare. Eleganza delle grafiche marmore di estetica e la matericità calda e avvolgente di Gea. Grazie a tutti.